Kugokirin è un'azienda che conosciamo veramente molto bene ragazzi ormai da tempo che proviamo i loro prodotti tutti i monopattini con un ottimo rapporto qualità prezzo e che chi di più chi di meno introducevano delle novità che in un certo senso non si vedevano in altri prodotti soprattutto per quella fascia di prezzo bene oggi siamo in compagnia dell'S4 un monopattino piuttosto economico che potete acquistare in sconto con il link e il coupon che trovate in descrizione che però ha una peculiarità un super display che è touchscreen ora dal punto di vista estetico dal punto di vista della visibilità dal punto di vista proprio dell'impatto e delle informazioni è una soluzione che non abbiamo mai visto ci sono davvero tante informazioni su quel display ma quanto sarà comodo poi nella vita reale dal punto di vista estetico visto così per la prima volta il Kugokirin S4 potrebbe essere molto simile allo Xiaomi Mi Scooter 3 eccetto per alcuni particolari che fanno però davvero la differenza a partire da questo enorme display che è touch che è posizionato al centro del manubrio e che prende gran parte dello spazio disponibile mettendo a disposizione una quantità enorme di informazioni c'è addirittura la temperatura della batteria iniziamo subito col dire che si tratta di un ottimo computer di bordo sicuramente il più ricco come visto sul monopattino elettrico che però è di una scocca che forse l'azienda avrebbe potuto curare un po di più perché effettivamente trasmette quella sensazione di economico ma devo dire che si tratta di una struttura decisamente molto rigida parlando proprio di struttura tutta la struttura di questo monopattino è realizzato in materiale antiossidante le sue dimensioni sono piuttosto compatte ed assieme a un peso relativamente contenuto si tratta di un monopattino molto comodo da portare con si magari nella metro o magari da caricare in macchina anche il sistema di chiusura è molto funzionale e veloce e intuitivo e permette di chiudere il monopattino praticamente in meno di un secondo ricordate i vecchi Kugok avevano quel sistema di chiusura che era veramente fastidioso da utilizzare che era duro che era lento l'azienda ha totalmente risolto il problema e questo piccolino veramente molto comodo da aprire e chiudere ottima anche la pedana l'unica cosa che non mi piace è che ha una guaina in gomma chiara che si sporca molto facilmente però proprio come nei recenti monopatti di Ninebot l'azienda ha pensato di ingrandire lo spazio dedicato ai piedi in questo modo non solo è più comodo quando si guida il monopattino ma si ha una maggiore sensazione di stabilità e soprattutto una maggiore sicurezza ciò che mi ha lasciato un po' perplesso però è la luce frontale è un led che è veramente molto luminoso se è chiaro riesce a illuminare fino a 20 metri però le plastiche la struttura mi sembra un pochino troppo economiche è chiaro che si tratta di compromessi che bisogna accettare quando si va a pagare un monopattino di questa qualità diciamolo ad un prezzo più umano rispetto alla gran parte dei prodotti che stanno arrivando adesso nel mercato poco male però perché tutta la struttura la grande pedana e i pneumatici da 10 pollici trasmettono una sensazione di solidità e qualità molto interessante soprattutto se messa in relazione ad altri monopattini elettrici venduti nella stessa fascia di prezzo c'è però da dire una cosa il kugoo kirin s4 è totalmente sprovvisto di un qualsivoglia sistema di ammortizzazione in genere è possibile trovare dei modelli che più o meno vengono venduti allo stesso prezzo che quantomeno hanno un sistema di ammortizzazione anteriore qui non ce n'è nessuno né anteriore né posteriore e diciamo che tutta la gestione delle vibrazioni è lasciata alle ruote che sono a camera d'aria ed è intelligente questo fatto che siano a camera d'aria perché riescono ad attutire effettivamente gli urti e le vibrazioni anche se mi sarebbe piaciuto vedere almeno una faccella anteriore il manubrio poi non è telescopico l'azienda ha prodotto dei modelli che avevano questo sistema di regolazione dell'altezza del manubrio stesso ma in questo modello non è possibile questa è un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta vedere in questo kugoo kirin s4 non tanto per me che non sono effettivamente molto alto ma per rendere più agevole la guida anche per le persone più alte di me il motore che anima questo monopattino un brushless da 350 watt che accompagnato da una batteria da 10 ampere ora quindi con una buona capacità che però funziona a 36 volte ecco questo è un altro fattore che secondo me l'azienda doveva pensare un po meglio perché i 36 volt sono secondo me un pochino troppo bassi per un monopattino del genere devo dire però che diciamo sui 500 watt si trovano quelli a 42 volt a 40 volt insomma tutto sommato si sente che è un pochino limitato ma si guida molto bene e poi ragazzi diciamolo in italia c'è il limite dei 25 chilometri all'ora quindi il problema non si pone e non si pone anche perché effettivamente sia in partenza che in salita il kugoo kirin s4 si comporta piuttosto bene ed è in grado di supportare un peso massimo di 100 chilogrammi l'azienda inoltre garantisce una gestione delle salite fino al 15 per cento ed è qui che incominciamo un po a sentire ecco questa batteria un po così così perché nei miei test diciamo che intorno all'otto per cento incomincia ad avere qualche difficoltà continua ad andare avanti però si vede che la velocità massima tende un pochino a diminuire e parlando proprio di velocità massima il kugoo kirin s4 è in grado di raggiungere 35 chilometri orari la velocità si può modificare scegliendo una delle tre marce disponibile la prima arriva a 15 chilometri orari la seconda a 25 chilometri orari e la terza invece alla massima velocità c'è però un piccolo punto di questo computer di bordo che a me non è che è piaciuto tantissimo tutto è touch tutto viene gestito da questo grandissimo schermo posto al centro del monopattino però per cambiare la marcia che si sta utilizzando è necessario quindi utilizzare uno dei controlli touch sullo schermo il che vuol dire che se si vuole cambiare marcia mentre si è in corsa bisogna lasciare una delle manopole continuare a guidare con una mano e selezionare quindi il cambio di modalità ora per alcuni potrebbe essere una cosa veramente stupida parlare di questo perché molte persone che guidano sempre monopattini non hanno problemi a lasciare per un secondo la manopola io in realtà li guido però tengo molto alla sicurezza e quindi preferisco non lasciare mai le due manopole con un monopattino perché comunque un monopattino che va su due ruote relativamente piccole mi sarebbe piaciuto un serettore della velocità posto vicino alla monopola sinistra però ragazzi tant'è con il cookie in s4 poi l'azienda ha fatto dei grandi passi in avanti in quanto a sistema frenante generalmente in questa fascia di prezzo i monopattini prodotti dal brand erano dotati solo di un freno elettrico oppure di un freno a tamburo in questo caso invece c'è un ottimo freno a disco che è coltivato poi dal freno elettronico freno che ha anche il compito del recupero dell'energia e devo dire che un recupero dell'energia molto interessante in alcuni monopattini quando si tende a recuperare l'energia sia con la sensazione che magari mentre si guida si viene spinti verso avanti perché il recupero dell'energia è forse troppo invadente e quindi tende a diminuire molto la velocità del monopattino quando si lascia l'acceleratore in questo piccolino invece il problema non si pone devo dire che il sistema è ben calibrato e mi è piaciuto molto insomma tutto sommato guidare questo cucurino in s4 è molto divertente soprattutto grazie alla pedana maggiorata che è davvero molto più comoda rispetto a quelle standard ciò che manca però è un sistema di ammortizzazione l'abbiamo detto perché soprattutto su fondi stradali piuttosto connessi le vibrazioni si potrebbero sentire un po di più in quanto a batteria ve lo dicevo parliamo di una 10 ampere ora a 36 volt di tensione che almeno secondo quanto dichiarato dell'azienda dovrebbe essere in grado di garantire un'autonomia massima di 40 chilometri ora nelle recensioni di questi monopattini ci scrivete sempre nei commenti ma come è possibile che le aziende dichiarino un'autonomia che poi nella vita reale non è così la risposta è semplice perché loro quando come dire predicono l'autonomia dei propri prodotti lo fanno su fondi stradali uniformi e pianeggianti ipotizzando che sul monopattino ci sia una persona di 65 kg e ad una temperatura ambientale di 25 gradi capirete quindi che nella vita di tutti i giorni insomma le cose sono un po diverse nei test che ho fatto con questo monopattino sono riuscito ad arrivare a circa 30 chilometri con un'unica carica però andando sempre al massimo della spinta del motore e soprattutto sulle strade di avellino il che vuol dire che ci sono tanti saliscendi eccetera insomma in soldoni l'autonomia è buona io mi aspettavo peggio però siamo distanti circa 10 chilometri da quei 40 chilometri dichiarati dall'azienda in quanto a ricarica sempre lenta per una ricarica completa ci potrebbero volere circa 7 ore più o meno con il caricabatterie che esce in confezioni che ha preso europea insomma siamo praticamente nella media il prezzo di vendita del cubo kirin s4 è di 447 euro ma in basso trovate un link ed un coupon che vi permetterà di portarvelo a casa a 415 euro ok non è tra i monopattino elettrici più economici del mercato ma è comunque una soluzione in grado di rufire una buona qualità e una buona potenza che è quantomeno bilanciata ad un prezzo tutto sommato ancora umano ragazzi il punto è questo il mercato per questa guerra per questa situazione per il covid in cina è impazzito e le aziende si stanno continuando a presentare sti prodotti nuovi però lo fanno a prezzi enormi e lo sforzo fatto da kukukirin per riuscire a contenere comunque il prezzo è comunque da apprezzare c'è da dire che poi sul monopattino del genere non aveva mai visto un computer di bordo così grande e così ricco di informazioni le due cose che effettivamente non mi sono piaciuto di questo prodotto sono la gestione delle marce che sarebbe stata più semplice se posizionata accanto alla monopola di sinistra e poi l'assenza totale di un sistema di ammortizzazione potevano fare qualche sforzino in più sotto questo punto di vista però secondo me è un buon acquisto e ragazzi questo è quanto questo è kukukirin s4 fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se vi va scrivetevi al canale attivate la campanella eccetera 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 insomma sapete già la tv terra io sono dario colente ci vediamo al prossimo video su giz ciao ciao ciao